Musica Eccoci qui al termine di una partita ultracombattuta e ne approfittiamo per presentare la new entry in casa Promoball Martina Moriconi Martina, come ti sei trovata con la squadra e com'è andata il tuo esordio? Allora, è andata molto bene per essere stata la prima partita e sono molto soddisfatta della mia prestazione e di quella delle mie compagnie anche se potevamo comunque dare molto di più Ci sono stati tanti alti e bassi e dobbiamo lavorare molto sui bassi, direi Ci rifaremo, rinnoviamo i complimenti al Marzola Trento per la vittoria Ci vediamo la prossima volta, ciao! Grazie 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 Grazie